Signore e signori, dopo un mese e mezzo di voci, chiacchiere, ma zeccole, ci siamo. È arrivata la prima offerta della Juventus per Teo Uncob Minersi, il suo obiettivo numero uno. 45 milioni. Non ce lo mettono neanche in una piana o The Cop. No, 46 milioni quella. Se vuoi anche solo odorarlo, perché è così che si fa. Perché tanto, prima o poi in un mercato un po' pazzo, succede che qualcuno accontenta sempre la squadra che ti fa l'offerta. Noi facciamo gli sconti, infatti ieri 29,4, meno dei 30, lasciamo perdere, argomento superato. Perciò mi sono fatto un conticino e nei commenti io vorrei che voi mi diceste la vostra. Ci arriviamo, io so che inizialmente può sembrare un po' una notizia messa lì, però io sono rimasto abituato un po' a vedere di tutto dalla via Juventus. Giuntoli non giuntoli. Questa è la cifra che neanche il tifoso più ottimista vorrebbe spendere, o vorrebbe pensare di spendere e portarsi a casa con Maynes Adiemi e Todibo in questa sessione di mercato. 45 il primo, che ne so, intavolandoci i rugani per sostituire Jim City che andrà in Arabia. 35 per Adiemi senza contare i bonus che poi entrerebbero nella prossima stagione e 5 per il prestito e nello so di Todibo. Totale 80, ma so che sapete contare. Ma siccome la Juve, sai, gli sconti li fa ma non riesce poi a pigliarli i giocatori in quel modo, io dico 60 per Copp. Perché la Taranta non scende, anche se si vuole pigli amico Gonzalo, i 600 terzini esterni, i trequartisti. 45 per Adiemi, così perché avere l'accordo col padre vuol dire questo. E 10 per il prestito oneroso. Perché inizia. È ancora fregato dall'USM che gli avrebbe offerto di più della Juve. Totale 115. Ecco, siccome è una spesa immensa, ma non è che la Juventus pensa di monetizzarsi il mercato cedendo Bremer che è l'unico giocatore rimasto che potrebbe avere in offerta decente? Perché io alla fine un ci credo nell'eliminazione della Valkyria di Sciglio che riesce a fruttarci quel bottino necessario per averli tutti. Un ci credo che arriva in club Emiro che c'è Pia Costi e c'è 20 milioni. Un lo so se McKennie andrà alla Fiorentina chissà per quanto. Perciò io comincio a pensare. Ma non è che in mente sono un crociera anziché affondare la nave, affondare la Juventus e fa veramente sta roba qua. Dove ve la butto lì? La Juventus con i soldi di Bremer che ci potrebbe fare oltre a questi tre? Pia qualche tassello importante che gli manca. Un altro esterno. Un vice Vlaovic. Magari che ne so, anche un Kivior. Ve la butto lì. Ma pur di arrivare a cambiare ancora radicalmente la rosa e aggiungere tutti questi elementi che permetterebbero di essere comunque completa, va a perdere quello per cui poi ti arriva l'offerta della Premier di turno. 70 milioni. Altra plus Valenza anche per Bremer presso a 42 più 8 dal Torino. E via. Non ci pensi più. Lo vende anche a più di De Higt. Io ve lo domando. Lo accettereste? Io comincio a pensare perché la Juventus sai e si parte dalla base di 35 per Adeyemi col Dortmund che chiede di più. E con Mainz è l'obiettivo fisso di Giuntoli per il quale vuole l'estina squadra importante e competitiva dove serve il giocatore del ruolo dove Diago Motta vuole fare la differenza della sua idea di gioco. E glielo si porta. E Totipo è il tassello, il pensiero e il pallino fisso di Giuntoli. Allora non è che si fa quel passo indietro. Si rivaluta un attimo il sistema difensivo e si vede che in Bremer non si riconosce il difensore che ti pratica magari l'impostazione dal basso di cui tu tanto predichi, parli e ne vorresti fosse applicata poi in teoria la squadra perché non puoi trasformarlo forse a 26 anni quel giocatore che poi qualcuno nella narrativa giornalistica ti porta a dire Ma sai che Bremer comunque se non lo perdo quest'anno lo perdo il prossimo? Ma sai che comunque Bremer fa fatica a fare secondo me quello che hai in mente Diago Motta? Ma lo sai che alla fine comunque quella cifra lì è irrinunciabile, lo renderebbe uno dei migliori difensori centrali venduti per il quale tu non ne puoi fare a meno? Consideriamo queste ipotesi perché secondo me ad oggi intavolato tutte queste tre cose lo so che a conti fatti la Juventus ad oggi ha ceduto più di quello che ha comprato E poi ci dobbiamo sempre aggiungere tra le figure cedute ma non monetizzate, Rabiot Shesdi Ragazzi abbiamo ceduto praticamente tra ingaggi e cessioni in qualcosa che basti 100 milioni per comprare una settantina Lo spazio ci sarebbe e sicuramente Adeyemi rientra in Sule e Todiboh rientra in Unisen Ecco Miners che mi fa pensare, siccome non è l'unico giocatore secondo me di cui abbiamo bisogno Dove anche se ok sull'esterno possiamo in questo momento per l'amichevole con Norimberga rivalutare l'innesto di UEA tra i possibili esterni del futuro Quindi che ne so, ad oggi Hildiz, UEA, Adeyemi, Chiesa, 4 no, per due posti, mezzo ce stai Ma capito no com'è la situazione, a quel punto poi mi avrebbe a mancare il terzino Dove a destra, ok, Muaremovic, Genoa, Barbieri, Frabotta Un giocatore che stiamo cedendo al QPR, il primo esubero dei tanti, visto che ancora il Verona non c'è andato Madre di Dio, vediamolo evolversi Io sti pensieri me li faccio, è logico Beh, è anche un giocatore non comprato da Giuntoli che in questo momento sembra quasi avere il lanciafiamme Dove non vuole lasciare traccia di quello che c'era prima Onestamente, dovesse succedere una roba del genere Mi arrabbierei e non poco, perché sarebbe un'ennesima riprova che quello fatto nelle stallioni precedenti Non ti ha dato modo di poter far mercato se non monetizzando i tuoi, i tuoi migliori giovani e i giocatori più forti della rosa Perché non c'è discussione Però, davvero, vogliamo tanto mettere fretta noi ai nostri dirigenti di comprarli Vogliamo preparare la nuova annata Bremer si può dire che la preparazione era iniziata ieri Io non ci riducerei mai a Bremer, perché ragazzi, non so in quante lingue ve l'ho fatta capire Però davvero, sento talmente tanti nomi che poi mi verrebbe da dire Davvero, ok che ce lo dicono gli altri, lo fanno anche in modo troppo, troppo, troppo esagerato Già solo con ad ieri Già solo con ad ieri, ma com'è stato da avere tutti questi soldi? Benissimo, tranquilli, non c'è bisogno di ricordare che in questo mercato tutti i giocatori si prendono in esercizi divisi Tanto che i 15 di Uisen con la percentuale di rivenda ben applicata nella cessione di Uisen e Sule nel 10% La paghi in 5 esercizi Tutte le squadre hanno i pagamenti dilazionati che poi mettono a bilancio ogni anno Vedi, l'Uisen oggi mi pago 3 milioni l'anno Quello lì l'ho venduto a 30 Sule però diviso 4 mi paghi 7 milioni l'anno Ecco, è sempre stato così Non mi serve di dover spiegare le regole fondamentali del calcio mercato Davvero Analizzando la rosa, anche non avendo queste offerte del Chelsea, del Tottenham per Chiesa Dove poi quello sarebbe un campionato che ti metterebbe alla prova Bello intenso Quindi non so se in Chiesa si sposerebbe bene sui ritmi della Premier Forse è il 2021, adesso posto di infortunio È l'unico posto dove l'ho visto bene e dove lo potrei bene Ti ripeto, è sempre la Serie A Perché poi è un campionato che a quel livello ti permette anche di fare come ha fatto Chiesa A volte parcheggiarsi in benzo al campo per poi aspettare che la situazione gli si presentasse Io Chiesa all'estero non so quanto ce lo possa vedere Lui ci si vedrebbe, grazie, perché come aspettative Però non so quanto poi le squadre effettivamente inglesi che mica sono stupide ce vanno a puntare Anche il Bournemouth è stato furbo a capire come piglia il giocatore Non c'è creduto nessuno, ci si buttano loro Premier League, voglio dire Alla fine quello è il discorso Davvero Questo è il conto del tifoso un po' logorroico, pessimista Quello che ancora crede che forse tutto questo possa succedere al 31 di luglio Però ragazzi è un attimo, arriva la notifica Non ci vuole nulla che il Liverpool dà nulla Una squadra, non per forza lo United Che di soldi ne ha spesi più di quanto ne potrebbe spendere La metà della metà della metà Una squadra di club italiano che fa la Champions Perché questo è chiaro Zizze e Couto sono 100 milioni Non hanno riscatato Amrabat per 20 Ma se avessero davvero creduto in lui Non esitavano neanche a farlo per 50 Masraou i delitti prossimi obiettivi Però ecco, è un campionato dove non si fanno assolutamente sconti Io sono sicuro che Bremer non esiterebbe a rimanere alla Juventus Dove si rende conto che ha fatto due anni Il suo primo trofeo gli mancherebbe lo scudetto Arrivato due stagioni fa Però sai, sono delle supposizioni Un po' per far sbloccare sto mercato Perché poi, può succedere aiuto, mi possono sorprendere Sti cavoli, si esulta, si sboccia Ma siccome io, appunto, tra un po' vado un crociera Nel senso E mettiamo sto video un po' come a dire Dai, mi gioco sta carta Non succede Ma se succede, Alessio, l'hanno visto, no? Già solipotizzando questa teoria del impossibile Però io, un pensierino, comincio a farcelo Vedo un po' di nomi rimbalzati Nomi che dicono Ah, ma quello non va a sostituire l'altro Allora, più ne sento queste notizie Più una parte di me dice Ma siamo sicuri che abbiamo veramente ceduto il nostro peggio da sopportare? Perché un po' me lo insegna l'esperienza È stata soltanto la notifica Il sondaggio della Premier per Bremer, no? Che nome, Bremer, Bremer Che ci fanno un po' di assonanza Che mi ha un po' portato a pensare Davvero? Davvero poi magari arriverà il momento in cui lo Juventino dirà Sì, va bene, va bene O a quel punto dovranno dire Oh ragazzi, se non vendi Bremer non possiamo fare mercato Questa cosa l'ho sentita per Sole e per lui, se hai capito, no? Poi anche lì sarebbe da capire Quanto lo vediamo, Bremer? Perché? Ho visto cifre iniziali che la Juventus cide 70 milioni Ve l'ho detto Ceduto dal Torino a 42 più 8 Iper plus Valenza anche su questo giocatore qua Al contrario di quello che si era fatto su The Rift Dove il giocatore ha preso 85 L'hai poi rivenduto a 67 Contando i bonus, forse sui 70 Ci siamo arrivati Per poi quello scambio con Bremer Poi, capito? Non vorrei che tutto tipo È meglio nell'impostazione Piede migliore Lo vai a prendere In un refatto dove poi Ve l'ho detto, eh Ci aggiungerei o ci collegherei un Kivior Per farvi rendere un po' l'idea del concetto del tutto Però, insomma È un'idea che mi è entrata in testa Ripeto, c'è basta un secondo, eh Perché comunque non solo arrivi una conferenza Una parola, un'intervista Un tweet, un commento Per farmi cambia idea Ma io nel dubbio potrò dire Sono stato io il primo a dirvelo Sono stato io il primo a pensarlo E il primo a ipotizzarlo Perché davvero è tutto molto bello Quel centrocampo D'anno a Schefren E... Copp Perché poi ti permette anche a Fagioli Di stare lì A capire A riprendersi dopo quell'anno passato Praticamente a osservare A essere la prima riserva Del regista Perché già Lo vediamo che Dacas può fare un po' da maestro Ai nostri locatelli Ai nostri miretti Senz'altro Ai nostri Ciasoli Quindi La fretta per Copp Per far arrivare a Juventus Come una squadra che ha Il suo Stoccatore Perché lui Nell'oro della scherma Credo sia per numero uno Per infilate Sulla tre quarti Un centrocampo Fatto bene È il primo che ti sa valorizzare Difesa Porta E attacco Facendo difendere meglio Facendo attaccare meglio Facendo già anche valorizzare meglio gli esterni Quindi Se questo super investimento Fosse anche inserito Nell'ottica di pensare Questo giocatore In grado di farmi valere Di più Quello che andrò a prendere Di più l'ildiz Di segnare di più il Vlaovic Di difendere meglio il cabal Questo è il pensiero Che hanno da tempo È la società Juventus Quindi La squadra deve venire su competitiva Ma Le idee E i ruoli Dove siamo Secondo me Appesi a un filo Sottanti Certo Questo renderebbe Con la gestione di Premier Il mercato Ancor più esplosivo E abbiamo un mese di tempo E le follie La Juve Ce l'ha sempre insegnate Sarà fattibile Sarà possibile Io dico che Ad oggi Se non riusciamo A cede Il Chiesa O Chi altro Di turno Ce lo possiamo sognare McKennie 20 milioni La Fiorentina Ripeto Poi cominciamo davvero A inseguirci Roba che Già solo Il milione Che ci potrebbe Tirare fuori Il Queen's Park Ranger Se fra botta Insomma Chi ne lascia la moglie Apre il nuovo caso Fascicolo sulla Juventus Vabbè Ditemi un po' La vostra Il discorso Questa gente Possibile Più altri Innesti C'è Nendo Bremer Sì No Sennò rimani così Dependi solo A Deyemi E poco altro più Quanto la vuoi rivoluzione Alla rosa Che intenzione hai di fare Rinunceresti a Bremer Per quel discorso Di un'impostazione dal basso Bella